Siamo con Walter Sozieri, presidente del Rotary Teramo. Oggi è stato presentato un progetto, un Natale per Castelli. Sì, abbiamo consegnato un sito web dinamico con una parte dedicata all'e-commerce, quindi praticamente anche i ceramisti di Castelli potranno mettersi in vetrina su tutto il mondo e quindi vendere i propri prodotti. Che cosa costa, oltre all'e-commerce, questo progetto? Costa che il progetto viene chiamato un Natale per Castelli, quindi abbiamo realizzato e personalizzato delle sfere di Natale che promuoveremo sulle quattro regioni che è il nostro distretto. Speriamo di portare all'interno di ogni famiglia rotariana una palla di Natale di Castelli, quindi un oggetto prezioso di Castelli. A tal proposito ce ne parla invece il presidente del Rotary Teramo Nord, Ronci. Sì, siamo riusciti a portare avanti questa iniziativa con il coinvolgimento del distretto, del distretto Rotary 2090 che coinvolge sostanzialmente quattro regioni, l'Abruzzo, le Marche, il Molise e l'Umbria. È un'iniziativa quindi che vede sponsorizzare la ceramica castellana. Di fatto il distretto si farà promotore di questo acquisto tramite i vari club, fra cui quelli del Teramano, di varie sfere di Natale di Castelli. Il Rotary è particolarmente sensibile a queste iniziative, all'aiuto e al sostegno attraverso queste forme della ceramica di Castelli e di chi abita in questi luoghi che ovviamente in questi tempi hanno subito gravi problemi e ripercussioni con i vari terremoti. Grazie. 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 Grazie.